È arrivato anche oggi, tu hai solito col Modena, oggi si è stato confermato, è arrivato un gol importante all'ultimo, hai fatto sfodere la curva, che ne pensi allora? Sono molto contento innanzitutto per il risultato, perché serviva la vittoria, perché dopo i 30 minuti di fermo dovevamo dare un segnale che c'eravamo e l'abbiamo dimostrato, penso, contro una delle squadre più forti e più attrezzate del campionato, quindi innanzitutto sono contento per i tre punti. Poi anche per me, che comunque è il primo gol con la maglia della Samba, in casa comunque ha un sapore particolare. In mezzo al campo un attimo eravate veramente giovanissimi, tu, Bove, Vallotta, giovani di qualità, di personalità, avevi dimostrato tanta personalità in queste prime partite. Come fa un giovane magari a calarsi subito in questo ambiente così, come Samba hai detto, e subito a essere decisivo? Non è facile immaginare? No, assolutamente, sicuramente con l'aiuto dei più grandi, dei più, tra virgolette, anziani del gruppo, del mister e tutto lo staff, la società, puntano tutti su di noi e cercano di farci crescere. Noi ce la mettiamo tutta durante la settimana in allenamento e poi la domenica comunque dobbiamo far vedere che ci siamo e che dobbiamo dimostrare che hanno fatto bene comunque a puntare anche su noi giovani. Adesso è proprio per vincere? Assolutamente, siamo alla Samba Nettese, dobbiamo affrontare tutte le partite per vincere e per fare la prestazione in ogni campo. Soprattutto in casa deve essere il nostro portino, diciamo, ma anche in trasferta non dobbiamo avere paura di nessuno. Ultima domanda, una curiosità, a chi si ispira? C'è un eseguo, il modello, l'idolo?